Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro 8G6 che apriamo andando a Pescara perché questa mattina ha aperto la strada Pendolo che finalmente potrà collegare le due zone ovest della città. Il servizio è fermato per noi da Paolo Lorenzetti. Quello di oggi è stato il gran giorno dell'inaugurazione della strada Pendolo a Pescara. Dopo decenni di attese e promesse in evase, il capoluogo adriatico potrà da oggi fruire finalmente di un'arteria fondamentale per la viabilità, un'infrastruttura che rientra tra gli interventi di riqualificazione della parte ovest del capoluogo e che punta inoltre a ridurre i volumi di traffico sull'intero territorio comunale. Al taglio del nastro questa mattina c'era la maggioranza di governo cittadina quasi al completo. Come ha spiegato il sindaco Carlo Masci, era da metà anni 70 che si pensava alla realizzazione della strada Pendolo. Oggi noi inauguriamo il primo tratto, il più importante, quello che collega la Tiburtina con via Salara Vecchia. Oltretutto in questa zona c'era un degrado assoluto, drogati, spacciatori, c'era veramente di tutto e i cittadini della zona vivevano in condizioni veramente drammatiche. oggi invece c'è una bellissima strada, un bel viale con verde, piante, pista ciclabile e poi continuerà con l'altro tratto che parte da San Donato e poi il terzo tratto di via Pantini. Questo percorso permetterà di arrivare da Francavilla ai colli di Pescara, passando per San Donato, Villa del Fuoco e l'ospedale senza passare per il centro della città, quindi non intasando il centro, alleggerendo la viabilità, una condizione ottimale. Sono passati tantissimi anni e nessuno riusciva a fare questa strada perché non si volevano espropriare i terreni e noi siamo arrivati, abbiamo espropriato i terreni e oggi ci sono le strade che stiamo realizzando. Fra 20 giorni inaugureremo l'altro tratto e a settembre il terzo tratto avremo completato il lavoro che durava veramente da tantissimi, tantissimi anni. Raggiante l'assessore alla viabilità Luigi Albore Mascia che con il suo assessorato è al lavoro per una città meno ingolfata di traffico e sempre più a misura d'uomo. Durante la mia amministrazione inaugurammo quella di via Lago di Capestrano, oggi invece inauguriamo un altro tratto in attesa di quello definitivo e finale per una sorta di circonvallazione cittadina, io la definisco così, che ha una funzione strategica importante sull'alleggerimento del traffico, soprattutto sulle strade laterali, sul traffico locale che quindi può essere utilizzato anche da pedoni, può essere utilizzato da ciclisti, anche per la mobilità sostenibile in maggiore tranquillità rispetto ai flussi di traffico veicolare. Cronaca è morto nella notte l'uomo di 78 anni che ieri pomeriggio è stato aggredito dal nipote, un 15enne con problemi psichiatrici. Il giovane avrebbe usato una sedia e un aspirapolvere per colpire il nonno, pare dopo una lite con la nonna. L'uomo era ricoverato nel reparto di remezione dell'ospedale di Pescara. Il fatto è avvenuto in una casa di Bucchianico in provincia di Chieti dove il ragazzo vive con i nonni materni. L'uomo aveva riportato diversi traumi al volto e varie fratture. Il nipote che subito dopo l'aggressione si era chiuso nella sua stanza dalla quale è uscito dopo l'intervento dei carabinieri è stato condotto da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Chieti dove ha trascorso la notte in stato d'arresto per tentato omicidio. Sulla tragedia sono arrivate anche le parole del sindaco di Bucchianico che dice già ieri ero rimasto sconvolto, figuriamoci questa mattina quando mi hanno comunicato che il nonno era deceduto. Una tragedia immane in tutti i sensi, quasi quasi ci si sente impotenti e ci si pone la domanda che cosa si doveva fare di più. Nel lato negativo di questa vicenda è un insegnamento, spiega all'ANSA il primo cittadino che ci deve far riflettere sempre di più e cercare tutte le maniere in questi casi per affrontare il problema prima che sfoci in tragedia. Cambiamo argomento adesso perché si terrà martedì prossimo a Pescara l'evento internazionale La Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa centrale. La presentazione è avvenuta questa mattina a Montesilvano, il servizio di Stefano Recanati. Evitare una Pescarexit, per questo bisogna prefigurare. Lo ha evidenziato il senatore Luciano D'Alfonso nel giorno della presentazione dell'evento internazionale che si terrà martedì prossimo a Pescara. L'appuntamento è per le ore 16.30 al Museo dell'Ottocento per la cerimonia inaugurale, poi alle 17 presso la Sala Consigliare di Palazzo di Città il convegno internazionale Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa agriatica. Tra gli ospiti i sindaci di Tirania e Atene, oltre al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, tra gli obiettivi quello di agganciare il progetto di fusione di Pescara-Montesilvano Espoltore al destino dell'Euroregione Adriatico-Ionica. Questa città nuova richiede una riorganizzazione territoriale dietro di sé, ma anche in Adriatico, anche rispetto all'Europa nuova, anche rispetto alle macroregioni. Ecco, voglio mettere in evidenza però che da questo giorno, dal 14 di luglio, noi ci attiveremo anche per dotare di norme nuove questo cantiere. La prima norma riguardante la possibilità per i consiglieri comunali di partecipare agli organi collegiali nuovi e poi ci doteremo di una pianta organica nuova, dedicata della nuova città, che riconosca il lavoro in più al personale proveniente da Montesilvano, da Spoltore e da Pescara. Sarà un lavoro gigantesco quello che dovranno fare i dipendenti. Noi lavoreremo per fare in modo che lo Stato si accorga della potenza di questo progetto. Faremo in modo che la provincia di Pescara abbia anche una specifica di funzioni. Abbiamo già ragionato col direttore generale della provincia di Pescara, col ministro degli interni, siamo stati alla direzione generale del Ministero degli Affai Regionali per trovare un riconoscimento anche normativo per il ruolo che dovrà svolgere la provincia di Pescara rispetto a questo nuovo aspetto sfidante. Il bollettino odierno adesso dell'emergenza Covid nella nostra regione, oggi in Abruzzo sono stati registrati 2.616 nuovi casi positivi dopo 1.584 tamponi molecolari e 9.043 antigenici. nessuna nuova vittima, 888 sono i guariti, mentre per quanto riguarda gli ospedalizzati 190 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica con un incremento di 7 unità e 4, numero invariato, in terapia intensiva. Per quanto riguarda le variazioni provincia per provincia, 445 casi in più in provincia dell'Aquila, 761 in più in provincia di Chieti, 589 casi in più in provincia di Pescara, 676 casi in più in provincia di Teramo, 83 sono persone che risiedono fuori regione e 62 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha denunciato questa mattina in conferenza stampa che la manutenzione delle case popolari più ammalorate di via Osento è stata esclusa dall'utilizzo dei fondi PNRR perché è al 64esimo posto in graduatorie. I palazzi a terra di via Osento nel quartiere Rancitelli di Pescara sono stati messi in fondo alla graduatoria delle priorità della regione Abruzzo per l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell'edilizia popolare pubblica, una scelta incomprensibile e inaccettabile secondo il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che all'Ater aveva comunicato e illustrato lo stato di degrado degli edifici tanto da portare l'azienda ad inserire gli interventi strutturali per questi alloggi tra i primi posti della lista. Il Regione Abruzzo beneficerà di circa 50 milioni di euro del PNRR, ha redatto una graduatoria e purtroppo abbiamo scoperto che vi Osento, che a mio avviso sono i palazzi messi peggio della provincia di Pescara, che necessiterebbero quindi di interventi urgenti, è stato messo in fondo alla graduatoria, al 64esimo posto, con i fondi a disposizione loro finanziano fino al 60esimo posto, quindi fino al 60esimo intervento. Quindi vergognosamente Regione Abruzzo ha stirato una graduatoria escludendovi a Osento. Noi più volte abbiamo denunciato questa cosa, l'Ater ci aveva rassicurato che si sarebbero fatti i lavori, purtroppo la graduatoria la stila a Regione Abruzzo e Regione Abruzzo ha scelto questa cosa. Quindi l'appello forte, la denuncia forte a Regione Abruzzo di correre subito ai ripari, il Presidente Marsiglio, l'assessore Rilis alle case popolari, devono correre immediatamente ai ripari, utilizzare fondi propri, perché qui ci servono 2 milioni e 800 mila Euro, trovassero 2 milioni e 800 mila Euro nelle maglie del bilancio per ristrutturare queste case e metterle a norma, perché i cittadini così non possono più vivere. È una situazione completamente indecente, ci dicono che i soldi non ci sono, no i soldi ci sono, perché non voglio fare polemica, ma si trovano 14 milioni di Euro per regalare al ritiro di una squadra di calcio, del Napoli Calcio a Castel di Sangro, perché Regione ha previsto questo stanziamento e poi non si trovano 2 milioni di Euro per mettere in sicurezza i palazzi di Viosento. Eh no, non ce lo possono dire. Esasperati gli inquilini che ora chiedono risposte alla politica. Abbiamo i muri che si stanno sfarinando, io l'ho fatto presente anche all'Ater, praticamente ha detto, ma i muri portanti poi. Eh ma il signore non crolleranno? Come non crolleranno? A un certo punto dai e dai sotto c'è l'acqua, sotto c'è l'acqua. E poi noi siamo arrabbiatissimi perché entro giugno ci avevano assicurato, sempre andando con il nostro, meno male che ci sostiene il consigliere Domenico Pettinari, che entro i primi 6 mesi qua dovevano iniziare i lavori. Perché siamo finiti? Allora il Presidente della Regione, dico bene, il signor Marsilio, è stato al Ferro di Cavallo. Allora come ti preoccupi del Ferro di Cavallo? Perché non vieni anche qua in Viosento a vedere le case? Che poi oltretutto sono 3 palazzine sono e allora che ci vuole? Questi soldi dove sono? Perché non sono stati impegnati per queste case che stanno crollando? E poi si dice male a Domenico Pettinari? Eh no. Dopo la questione bilancio il prefetto di Chieti Armando Forgione è intervenuto anche sulla vicenda depuratore. Da un lato ci sono le mancanze del consorzio di bonifica per quanto concerne la tutela dei cittadini, dall'altro i debiti accumulati dal Comune. Ma dall'amministrazione confermano? Nessuno scontro. Nessuno scontro con l'amministrazione comunale. Noi abbiamo evidenziato quelle che sono le problematiche di gestione del depuratore di San Martino, anche sulla base dei riscontri dell'Arta e chiediamo semplicemente che si facciano quei lavori per rendere l'aria respirabile e non compromettere la salute pubblica. Stanno lavorando gli uffici e già faremo tutto ciò che è dovuto per andare avanti e saldare queste situazioni che sono pregresse. Noi siamo comunque in una situazione finanziaria difficoltosa che abbiamo ereditato dal passato e stiamo cercando di normalizzare tutto ciò che abbiamo trovato. Le soluzioni sono state indicate dall'Arta, sono soluzioni tecniche già conosciute dal consorzio per cui loro dovrebbero intervenire secondo quelle che sono tutte le prescrizioni dell'Arta che ha fatto una corposa relazione adesso ma anche in passato, cioè nel mese di febbraio. La non approvazione del rendiconto dipende da altri fattori legati a teatri servizi, a tutte le vicende che già sono note e conosciute sui ritardi dovuti a teatri servizi ma non per colpa del comune ma degli altri amministratori. Le risorse a disposizione dell'Abruzzo ammontano a 1 miliardo e 441 milioni di euro e 4 sono i capisaldi che animano le scelte della programmazione 21-27 rappresentate nel logo scelto dalla regione e individuate dal presidente Marsiglio per presentare all'Aquila insieme alla squadra di governo ai tecnici regionali la ripartizione degli interventi, le risorse programmate ma anche le priorità per l'Abruzzo. Si torna a parlare dei fondi europei, fondi che fanno parte, sono l'asset centrale potremmo dire del bilancio regionale ma non solo, c'è una difficoltà, c'è stata una difficoltà negli anni passati ad intercettare questi fondi soprattutto da parte dei comuni, insomma un tema sicuramente molto attuali. C'è stata soprattutto secondo me la difficoltà di spendere queste risorse perché c'è stata difficoltà da un lato per la farraginosità delle leggi norme che regolano il tema degli appalti pubblici su cui è necessario insistere sulle semplificazioni, dall'altro però che erano spesso programmi calati dall'alto e quindi i territori non li sentivano loro. A differenza di questo che credo segni un'immersione di rotta fondamentale, finalmente l'Europa capisce che non può essere solamente un soggetto regolatore dei mercati con norme spesso incomprensibili ma deve essere qualcosa di più, deve essere ciò che migliora la qualità degli stati membri, che li aiuta nelle scelte strategiche e non che li comprime. Speriamo che il governo e la Commissione europea non ci facciano perdere altro tempo perché siamo nel secondo semestre del 22 e dobbiamo far partire la programmazione 21-27, io avrei sperato prima di poterlo fare, però gli accordi di partenariato tra la Commissione e i governi nazionali hanno tardato ad essere siglati ma noi abbiamo rispettato tutti i tempi, non appena questi accordi sono stati fatti nel giro dei 90 giorni previsti, abbiamo approvato in giunta e spedito alla Commissione i nostri programmi operativi, speriamo che presto possano essere definitivamente autorizzati, noi siamo pronti già da settembre, già dall'autunno a pubblicare i primi bandi per mettere a terra questo oltre un miliardo di fondi a disposizione per lo sviluppo, per l'economia, per la formazione, per l'inclusione sociale. La novità vera è che sono stati concepiti in maniera trasversale tra tutti i vari argomenti dei vari settori, dall'ambiente allo sviluppo, all'occupazione, al sociale, alla pesca, all'agricoltura in una visione d'insieme di una regione che mette al centro la propria identità, le proprie peculiarità che sono date dalle eccellenze, eccellenze non solo enogastronomiche che sono tante parlando di una parte della mia delega, ma eccellenze culturali, eccellenze ambientali, eccellenze di ogni... Una spedizione di diverse tonnellate di beni di prima necessità, fra cui vestiario, alimenti e farmaci, organizzata e realizzata nell'arco di poche settimane dalla Fondazione Pescara Abruzzo a sostegno della popolazione ucraina, parte oggi per il paese martoriato dalla guerra. E' partito questa mattina un carico di diverse tonnellate di beni di prima necessità, alimenti, medicinali e vestiario che la Fondazione Pescara Abruzzo si è impegnata in prima linea a promuovere e realizzare a proprie spese in aiuto della popolazione dell'Ucraina. Un progetto anche frutto della collaborazione intrapresa già dopo i primi giorni del conflitto tra la Fondazione e l'Associazione Interculturale Ucraina, nessuno escluso, con sede a Pescara in occasione della raccolta di fondi per i musicisti fatta a margine del concerto della National Chamber Orchestra di Kiev lo scorso 4 marzo al Teatro Massimo di Pescara. Un'occasione musicale trasformata proprio grazie all'aiuto offerto della Fondazione Pescara Abruzzo in una testimonianza corale di pace. Ora un nuovo aiuto con la speranza che il conflitto possa finire al più presto. Si tratta di uno stock di alimenti, di vestiari e di medicinali di prima necessità e vuole essere un gesto concreto di solidarietà verso un popolo martoriato in conseguenza di un'aggressione di uno Stato troppo più forte e che vuole far valere solo la logica della forza. È un piccolo esempio, una goccia nella necessità oceanica di solidarietà di cui il popolo ucraino avrebbe bisogno ma la Fondazione come al solito affida le parole alle opere concrete e spero che in questo esempio sia seguito da altri atti di generosità e di impegno. Noi primi rifugiati li abbiamo accolto noi con la nostra associazione e nessuno escluso e con aiuto del Comune di Pescara e io voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con noi per aiutare il popolo bisognoso ucraino. Questa di oggi è un grande segno di solidarietà e sensibilità verso il nostro popolo ucraino. Questa camion arriverà a 3.000 km da qua in città che si chiama Kharkov dove sono state lotte feroci questi giorni dove le persone sono rimaste senza cibo, senza vestiti, senza medicina e noi insieme alla Fondazione Abruzzo che ringrazio veramente da parte di tutto il nostro popolo ucraino possiamo oggi mandare questa mercia verso Kharkov. A Pacentro il 4 settembre la Corsa degli Zingari nell'ambito degli eventi riguardanti il Parco della Maiella l'evento torna all'antico dopo le edizioni ridotte degli ultimi due anni. Torna il 4 settembre a Pacentro la Corsa degli Zingari edizione del 2022 si torna all'antico dopo due anni che questa festa si era fatta in forma ridotta per via della pandemia. Finalmente si torna alla celebrazione di questo antico rito e al festeggiamento legato al culto della Madonna di Loreto nella pienezza dell'organizzazione. L'organizzazione ovviamente è curata dall'omonima associazione l'associazione Corsa degli Zingari e dalla confraternita della Madonna di Loreto che annualmente si occupano di organizzare sia la parte religiosa più legata appunto al tema della Madonna di Loreto che alla parte appunto di celebrazioni civili se vogliamo comunque legato al rituale antichissimo della Corsa degli Zingari la quale appunto si svolge in occasione dei festeggiamenti della Madonna ma tradizionalmente occupa la prima domenica di settembre. Quindi si torna a vivere questo evento che è uno dei più caratteristici, più importanti all'interno del Parco Nazionale della Maiella e anche dell'intera regione Abruzzo un rito di tradizione antichissima le cui origini sono ampiamente dibattute. Ultimamente un'ipotesi particolarmente interessante è quella sostenuta all'interno del libro che sarà presentato nell'ambito di questa iniziativa del Parco qui oggi all'Aurum un libro di Andrea Staffa del dottor Andrea Staffa che appunto pensa di poter legare le origini di questa tradizione ai primi stanziamenti di etnia longobarda proprio nel territorio di Pacentro quindi una tradizione di origine germanica che segue i primi stanziamenti appunto longobardi legati forse anche alla fondazione stessa del paese di Pacentro in età alto medievale. Manovre di mercato e siamo allo sport in entrata per il Pescara soprattutto sul fronte ai giovani su Ghislandi dell'Atalanta si è inserita nelle ultime ore la Trestina mentre Vergara gioiello della primavera del Napoli è obiettivo complicato ma il Delfino vuole comunque provarci. Dopo Michael De Marchi altre due cessioni ufficiali per il Pescara sono delle ultime ore infatti le trattative concluse con potenza indipendiente per Andrea Di Grazia ed Edgar Elisalde entrambi a titolo definitivo due giocatori che da tempo non rientravano più nel progetto tecnico bianco-azzurro a maggior ragione adesso che sta per essere completamente ridisegnato con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Per l'attaccante problemi fisici a Foggia nell'ultima stagione e la possibilità di riscattarsi in Basilicata sempre nel Girone C sempre in Sud America ma cambiando nazione dall'Uruguay all'Argentina quello che capiterà ad Edgar Elisalde 11 presenze nel torneo di apertura e 5 in Coppa Libertadores in entrata invece si complica la strada che doveva portare a Davide Ghislandi l'esterno destro di proprietà dell'Atalanta sembrava ad un passo dal Pescara con cui era tutto fatto ma il pressing delle ultime ore della Triestina potrebbe aver fatto cambiare completamente le idee al ragazzo e cambiato anche le carte in tavola per quello che riguarda il suo futuro del classe 2001 cresciuto a Zingonia si profila una vera battaglia con gli alabardati per assicurarsi le prestazioni del giovane cursore sempre in entrata ma in tutt'altra zona di campo invece c'è l'interesse forte non solo del Pescara per Antonio Vergara del Napoli il talento della primavera azzurra non è partito per il ritiro di Di Maro perché è vicino al trasferimento per fare esperienza in Lega Pro su di lui il DS delicare ha messo gli occhi ma il Delfino non è solo nella corsa al giovane centrocampista del 2003 Vergara è stato una delle punte di diamante della formazione allenata da Frustalupi e tra gli elementi di spicco dell'intero settore giovanile partenopeo in questa stagione dove ha avuto anche qualche acciacco fisico Vergara ha collezionato contando campionato e play-out 5 gol e 13 assist risultando il miglior assistman del campionato Primavera 1 insieme al gemello Giuseppe Ambrosino i due calciatori sono stati osservati da Luciano Spalletti e dal suo staff tanto che la convocazione per il ritiro di Di Maro pareva abbastanza scontata così almeno per lui non è e allora su questo prospetto si sono fiondate oltre ai biancazzurri anche Cesena Vispesaro e Provercelli quest'ultima che sembra essere al momento la candidata principale ad assicurarsi le prestazioni del giocatore nato a fratta minore entro lunedì Vergara prenderà una decisione sceglierà il progetto più adatto a lui ma la Pro il cui direttore sportivo è Alex Casella sarebbe molto vicino a fargli vestire la casacca della formazione piemontese e portarlo nel girone A di Lega Pro Ospite della serata dedicata al premio Rodomonti il primo cittadino di Teramo Gianluido D'Alberto ha provato a fotografare la situazione del club bianco-rosso fiducia negli organi giudicanti pur dopo l'esclusione da parte del Consiglio federale ma anche la necessità di cominciare a tracciare un nuovo percorso lo ascoltiamo è un momento difficile è un momento nel quale dobbiamo assolutamente tutti non perdere la lucidità ancorarci a quei valori dello sport a quei valori della terramanità che ci devono consentire assolutamente di uscire dal momento difficile in cui ci troviamo e nessuno si deve tirare indietro ecco perché è importante la presenza di tutti oggi qui in Piazza Martiri lavoriamo assolutamente perché si continui a lottare ovviamente per la conservazione della categoria della Serie C ma contestualmente come sindaco il dovere anche di mettere in atto tutti gli strumenti che gli consentono di dare un futuro un seguito al calcio terramano e questo senza dubbio lo fa ecco a proposito di futuro come se ne esce perché insomma la via che arriva alla Serie C sembra ogni giorno sempre più stretta dobbiamo essere da un lato fiduciosi e battaglieri dall'altro realisti e oggettivi nel senso la situazione è complessa abbiamo ancora un margine di azione sotto l'aspetto del diritto sportivo da qui al 18 presumibilmente e quindi dobbiamo lavorare sfruttando tutte le possibilità che abbiamo perché ci venga riconosciuto quello che sul campo abbiamo guadagnato è difficile però adesso dobbiamo concentrare tutte le energie in questa direzione nello stesso tempo però bisogna essere sinceri realisti onesti e io come sindaco il dovere anche di valutare tutte le altre strade che mi consentano oggi più che mai perché oggi si parla di calcio terramano di garantire e consentire comunque un futuro al calcio terramano ecco la tifoseria ha detto insomma di acquisire titoli sportivi altrove non se ne parla è una strada percorribile? ma i tempi sono molto stretti se non sono già superati non è l'unica strada per ovviamente per dare continuità esistono anche altri strumenti che tante altre città hanno adottato in situazioni di crisi e di difficoltà io adesso vorrei però tutti continuassimo a lavorare per il raggiungimento di un obiettivo per il quale ci si sta spendendo tanto parallelamente però studiamo e analizziamo con lucidità tutte le altre possibilità che abbiamo per garantire comunque il futuro del calcio terramano e a proposito di terramo l'assemblea dei soci che era stata prevista per la giornata di oggi è stata sospesa e ulteriormente posticipata a lunedì prossimo alle ore 19.30 in attesa che il giudice si esprima sulla liberazione delle quote in suo possesso dunque se ne riparlerà all'inizio della prossima settimana è serata di gala come abbiamo visto quella di ieri sera a Piazza Martiri della Libertà a Terramo per la quarta edizione del premio a Rodomonti che ha conferito riconoscimenti ad arbitri e glorie del calcio bianco-rosso ma quest'anno la vera novità è anche la premiazione di atleti di altri sport che hanno dato lustro alla città e alla provincia Terramano vediamo questo premio è nato quasi sotto voce quasi come se fosse organizzato tra un gruppo di amici piano piano è cresciuto è diventato qualcosa di importante questa sera abbiamo premiato Gigi Del Neri che è tutto dire colui che ha allenato squadre importanti oltre che la Terramo Calcio abbiamo premiato persone come Pella Nera come la Delvinaccio Chionchio e non dico altri campioni terramani quindi è un premio che si è allargato non solo al calcio terramano ma a tutto lo sport terramano agli arbitri che onorano con le loro prestazioni la memoria di Carmine Rodomonti quindi tutto è cresciuto nell'ottica di un premio che secondo me è destinato ad avere un futuro in questa città ma sembra la partenza di un uomo che ha cominciato la sua attività per lo meno professionistica in questo posto è chiaro che Terramo mi ha dato molto ed è una fase importante della mia vita sia umana che calcistica infatti il rapporto con le persone è rimasto intatto come fosse 30 anni fa cosa si è portato dietro poi nella sua carriera di quello che aveva imparato a Terramo dove di fatto era giovanissimo diciamo che la semplicità l'accoglienza e l'affetto devo dire che ho trovato tutte queste componenti in questa città al di là dell'aspetto poi calcistico che è stato un buon anno importante come risultato calcistico però quel che è rimasto è l'accoglienza è una città che ti rimane nel cuore cioè l'Abruzzo rimane un po' nel cuore rimane un po' in quello che tu pensi sia giusto fare cioè gente che è affabile ti dà molto e questo poi è difficile dimenticarlo sì è una serata speciale è una serata sempre più bella perché è sempre più ricca di contenuti e l'associazione Amici del Calcio Terramano ogni anno aggiunge qualche tassello coinvolgendo sempre più i ragazzi quindi un progetto che parla della storia di Terram attraverso un personaggio che evidentemente ha dato qualcosa di importante parlando però anche al futuro peraltro non poteva mancare come ogni anno una parte dedicata agli arbitri abbiamo visto questa sera un giovanissimo davvero giovanissimo arbitro premiato che viene da una cantera possiamo dirla così che è la sezione AIA di Terramo che evidentemente deve avere qualcosa di magico guarda più che di magia parlerei veramente di qualità di risorse umane cioè della capacità degli arbitri ramani di ricordarsi il passato di ricordarsi i valori e di utilizzarli per passarli poi man mano alle nuove generazioni quindi in qualche modo i vecchi insegnamenti poi si fanno concreti attraverso il successo degli arbitri ma il successo degli arbitri non è arrivare in Serie A il successo degli arbitri è godersi quello che fanno e imparare a crescere e diventare uomini si svolgerà da domani fino al prossimo 30 luglio presso il parco di Villa Raspa di Spoltore in memoria Fabrizio Simone Cerretani il torneo a scopo di ricordare queste due splendide persone che sono venute a mancare prematuramente nel febbraio del 2020 a seguito di un brutto incidente stradale nel territorio comunale di Moscufo il torneo è stato ideato da Andrea Cerretani figlio e fratello delle due persone scomparse con l'aiuto di Antonella D'Angelo al torneo parteciperanno 12 squadre divise in due gironi passano le prime 4 per ogni girone che si affronteranno negli ottavi fino alla finale in programma sabato 30 luglio e con questa notizia si chiude anche l'edizione del nostro TG6 vi ricordo che i contributi che avete visto e tante altre notizie le potete trovare sul nostro portale www.tv6.it io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata ultimali www.tv.tus.gov.au internet Collegio Grazie a tutti.